Cartello dei lavori in corso in casa Bianca Azzurra dopo aver conquistato la soffertissima permanenza nel torneo cadetto in Rival Adriatico dirigenti abruzzesi dovranno ora sciogliere il nodo allenatore considerando che fra una settimana prenderà il via la preparazione precampionato. Entro 48 al massimo 72 ore è prevista la tanto attesa fumata bianca. Sembra Massimo Oddo il favorito al momento per guidare la squadra che giocherà in Serie B. L'ormai ex tecnico del Perugia sarebbe davanti ad Andrea Sottil e ad un altro poker di allenatori quali Stellone Bucchi, Colantuono e Di Biagio. L'ex tecnico della spalla dell'Under 21 ieri era stato a pranzo con il presidente Daniele Sebastiani ma in una conviviale già prevista da tempo e in cui si è parlato di calcio ma anche di altro e della comune passione per il paddle. Il tempo però stringe e fra pochi tifosi biancazzurri conosceranno così il nome del nuovo tecnico del Pescara. In questi ultimi giorni però a tenere banco in città sono anche i rumors che riguardano la società con il patron pescarese che sarebbe impegnato ad allargare la base societaria e in ultima ipotesi accedere il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie. Voci ma al momento nulla di concreto con eventuali novità previste non è l'immediato. Sul fronte mercato chiusa invece un'operazione in entrata dalle giovanili del Monaco è arrivato l'attaccante Alessandro Arlotti classe 2002.